Come tutte le attività che continuano a lavorare perché offrono un servizio indispensabile siamo attrezzati per rispettare le norme vigenti per cercare di tutelare la nostra sicurezza quella dei nostri collaboratori e quella dei nostri clienti adottando l'uso di mascherine, guanti, distanze di sicurezza con barriere di fronte al banco e continuiamo così ad offrire un servizio alla nostra clientela. Noi vendiamo medicinali veterinari per allevamenti zootecnici e anche per animali da compagnia. In più trattiamo alimenti dietetici in particolare e poi antiparassitari. Quali i problemi che oggi vi vengono sottoposti più spesso? Molti clienti telefonano per chiedere se siamo aperti chiaramente e se possono spostarsi per fare acquisti presso la nostra sede. Vorrei rispondere loro che non devono avere problemi perché si muovono per acquistare un bene di prima necessità per gli animali, soprattutto se sono muniti della ricetta veterinaria. In caso di necessità fate anche consegne a domicilio? In questo periodo ci siamo attivati e l'abbiamo messo anche su internet. In caso di necessità per le persone che hanno bisogno ci siamo attivati per fare consegne a domicilio. È presente anche un numero di WhatsApp sul quale possono lasciare un messaggio, successivamente saranno contattati e ci attiviamo per fare la consegna a domicilio. Veterinaria del Frignano vuole fare un appello. In questo periodo così complicato dal coronavirus non abbandonate gli animali. Certo, abbandonare gli animali è sempre un gesto molto crudele, incivile, ma in questo momento non bisogna nemmeno trascurare la salute e il benessere degli amici animali perché sicuramente loro non lo meritano. Può esserci anche il problema della cura degli animali perché magari tante persone hanno difficoltà a muoversi o pensano di non trovare i prodotti, ma questo non succede perché presso di noi si trovano tutti i medicinali veterinari prescritti dal veterinario oltre ad altri prodotti che possono servire per la cura e il benessere degli animali. In più trattiamo anche disinfettanti per le mani e per le superfici e mascherine, quindi se qualcuno ha bisogno di questi presidi li può trovare anche da noi.